Buongiorno, per il Caffè Biblico di oggi vorrei che riflettessimo insieme sul senso di responsabilità che abbiamo di fronte a tutti questi protocolli che stanno cambiando continuamente di ora in ora in questo momento. Ci può aiutare molto leggere la parola di Dio, la Bibbia, che funge spesso come una specie di specchio per noi, per vedere la bellezza della nostra creazione, ma anche per vedere la bruttezza del nostro peccare, quindi senza sconti nell'uno o nell'altro caso. La Bibbia ebraica è scritta in modo consonantico, ci spiegano i teologi e i commentatori. In sostanza le parole mancano delle vocali, così come è scritta nell'originale. È il lettore che leggendola deve capire il contesto e inserire le vocali giuste. Per gente come noi già questo a me confonde, è troppa roba, no? Io non sono abituato, nella nostra lingua c'è già scritto tutto. Tuttavia è così nell'ebraico originale della Bibbia, dove per esempio una parola scritta debere, come questa, insomma debere, può avere due significati diversi. Dabar, quindi parola, o deber, quindi peste. Parola o peste è il contesto che aiuta il lettore a scegliere tra l'una o l'altra. Ma mi piace, mi piace pensare che sia sempre e comunque il lettore ad avere questa grossa responsabilità di fronte a Dio di capire il contesto in cui è inserito, di capire il contesto in cui sta vivendo e scegliere nella direzione giusta. Quale fantastico esempio di responsabilità ci lascia il Vecchio Testamento, le Sacre Scritture? E mi piace, le stesse Sacre Scritture nel Vecchio Testamento dicono morte e vita sono in potere della lingua, dice in Proverbi al capitolo 18, versetto 21. Ogni dono che riceviamo, ogni scelta che facciamo, può essere usato, può produrre il bene o il male. Persino la lingua, ci dice lo scrittore, no? Prendiamo la cosiddetta cena del Signore, quella che nelle nostre chiese facciamo e l'effetto che essa ha nella nostra vita, che dipende tantissimo dall'attitudine, dall'approccio con cui ci avviciniamo a questo momento importante. Paolo lo spiega cento volte meglio di come lo potrei fare io, ovviamente, e lo fa nella lettera ai Corinzi che spesso leggiamo in questo momento importante per la Chiesa. E al versetto 29 del capitolo 11 della prima lettera di Corinzi dice Poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso se non discerne il corpo del Signore. Wow! Parole importanti! Con la cena del Signore, in sostanza, si mangia un pezzetto di pane e si beve un po' di vino. Cioè, questa è la sostanza, ma da essa si può uscire, probabilmente esattamente come prima, o si può uscire migliori o peggiori. Sta a noi. Sta a noi approcciarci a questo momento con la giusta attitudine. C'è una forte assunzione di responsabilità nella cena del Signore, come in tantissimi eventi all'interno della Chiesa, ma fuori nella nostra vita è uguale. E credo che il Signore ci chieda proprio questo. Certo, c'è chi vorrebbe, no? Diciamo, scaricare le responsabilità sempre e comunque su qualcun altro. Sul leader di Chiesa, su leader politici, su leader economici, sul governo, su chiunque altro, purché non sia io, lavandomene sostanzialmente le mani su ogni cosa come fece Pilato. Ma a proposito di lavarsene le mani, la verità biblica più potente e anche quella più semplice ha proprio a che vedere col nostro assumerci le responsabilità davanti agli uomini e davanti a Dio. Pensiamo alla venuta del nostro Signore Gesù. Di fronte alla venuta di Gesù, si può vivere con Lui o si può ucciderlo? Questo ha fatto l'umanità e questo continua a fare. Io scelgo di vivere con Lui. Sì, io scelgo di vivere con Lui per sempre, di assumermi la responsabilità della mia vita per ogni decisione che prendo davanti a Lui e davanti agli uomini, davanti agli altri. L'Eterno vi favorisca, davvero, anche in questa giornata e vi guidi nelle vostre scelte e nelle vostre assunzioni di responsabilità in questa era di protocolli e nuove regole da seguire. Grazie per la visione!